Quadrato dato il lato. Passo 0. Preparazione del foglio. Disegna il segmento dato e indica con A e B i suoi estremi. Passo 1. Costruzione della perpendicolare ad AB condotta per A. Prolunga il segmento AB dalla parte di A. Centra il compasso in A con apertura a piacere, preferibilmente piccola rispetto al segmento AB. E traccia un arco di circonferenza che intersechi la retta AB in due punti. Allarga l'apertura del compasso e traccia due archi di circonferenza facendo centro nei punti determinati in precedenza. I due archi devono intersecarsi in un punto. Traccia la semiretta uscente da A e passante per il punto che hai determinato. Questa è la perpendicolare per A al segmento AB. Indicala con R. Passo 2. Secondo lato del quadrato. Punta il compasso in A con apertura uguale ad AB e traccia un arco di circonferenza che intersechi la retta R in un punto D. Traccia il segmento AD. Questo è perpendicolare e uguale ad AB, quindi è un lato del quadrato e può essere tracciato con una linea spessa. Passo 3. Terzo e quarto lato del quadrato. Punta il compasso in B con apertura uguale ad AB e traccia un arco di circonferenza. I due archi che hai appena tracciato devono intersecarsi esattamente in un punto. Indicalo con C. Traccia i segmenti DC e BC. Costruzione completata. La distanza del punto C dal punto D è uguale all'apertura del compasso e quindi ad AB. Stessa cosa per i punti C e B. Pertanto i segmenti CD e BC sono uguali ad AB. Allora il quadrilatero ABCD ha tutti i lati uguali, quindi è un rombo. Ma sappiamo anche che il lato AB è perpendicolare al lato AD, quindi ABCD è un rombo con un angolo retto. Possiamo concludere che ABCD è sia un rombo sia un rettangolo, quindi è un quadrato. Ripassalo con tratto spesso. Ripassalo con tratto spesso.